Un uomo elegante ad una festa elegante chiede alla cameriera dove fosse il bagno, la cameriera dice in fondo alle scale, sopra, lui sale, apre la porta e vede una donna nuda nella vasca da bagno chiude subito la porta e dice scusi signore, questa è educazione, lo stesso uomo ha la stessa festa aprendo la stessa porta e vedendo la stessa donna nuda nel bagno chiude dicendo scusi signore, questo è tatto.